Lutto nella televisione, morta a 62 anni, l'attrice volto della storica serie tv General Hospital. La scomparsa risale al 20 luglio, ma solo oggi la sorella Linda ha dato la notizia confermando alcune voci che circolavano da settimane. L'attrice era affetta dal morbo di Wilson, una malattia ereditaria che porta all'accumulo di quantità eccessive di rame nel fegato, nel cervello e in altri organi vitali e che come si legge sul sito Humanitas può dare luogo a serie complicazioni come la cirrosi, l'insufficienza epatica, il cancro al fegato, problemi neurologici, disturbi renali e nella peggiore delle ipotesi il decesso.